Ciao a tutti, oggi noi visiteremo il Visuglio, simbolo delle città di Napoli. Per salire dal parcheggio si può usare la navetta che ci porta dritti alla piazzetta da dove noi cominciamo la nostra passeggiata. Come vedete si possono notare dei colli. Il Visuglio ha una tipica forma troncoconica, il cui punto più alto raggiunge il 1200 cm. Un diametro di 450 metri ed una profondità di 300 metri. Procedendo lungo il sentiero si apre il panorama del Golfo di Napoli e di tutta la città, alla costa fino a Sorrento e all'isola di Gabri. La nascita del complesso vulcanico Somma o Visuglio si fa risalire ad oltre 400.000 anni fa. Qualche anno fa c'era un grande incendio che ha causato molti danni per la natura. Qualche anno fa c'era un grande incendio che ha causato molto più grande. Nel territorio del Parco Nazionale del Visuglio sono scensite 230 specie minerali. Per salire sulla parte più alta del cratere bisogna andare con la guida. Ok, per oggi abbiamo finito. Se vi è piaciuto questo video mettete like e non dimenticate di iscrivervi così non perdete altri video. Ciao!